Provate a rispondere a queste due domande tra bocchetto, allora questo qua sembra un normalissimo componente React, secondo voi dove viene stampato questo console.log? Nella console del browser? Stessa cosa invece in questo componente che è un form, che al submit lancia questa funzione e qua a parte un piccolo spoiler c'è un altro console.log, dove verrà stampato? Verranno stampati entrambi nel browser? La risposta è no, se io rifaccio il refresh della pagina in console non appare nulla, stessa cosa se faccio submit qua del form non succede niente. Come mai? Ciao ragazzi bentornati qui sul canale, oggi parliamo di React, vediamo un po' quali grandi novità ha portato Next nel mondo di React con l'implementazione di default dei server components. Poi vedremo come con la versione 13.4 di Next e l'introduzione delle server actions questo sia stato portato ancora oltre e come quindi React sia diventando qualcosa di diverso da quello che conosciamo. Prima di buttarci sul codice vi ricordo come sempre di mettere un like se troverete utile questi contenuti per supportare il mio progetto e iscrivervi per non perdere i prossimi contenuti. Facciamo un sacco di live coding, parliamo con altri sviluppatori, parliamo della vita da nomadi digitali visto che sono sempre in giro, insomma parliamo di tante cose carine quindi se vi interessa iscrivetevi. Partiamo dai server component, dunque questo componente come vi dicevo prima ha questo console.log che non viene stampato sul browser ma in realtà scopriamo che viene stampato sul terminale perché appunto sto utilizzando Next, qua sta girando il mio server Next. Quindi console.log viene effettivamente seguito lato server. Questo perché da Next 13 di default i componenti React in Next sono dei server component che cosa vuol dire che tutto viene elaborato lato server e al client viene restituito direttamente l'HTML. Al contrario dei classici componenti React client in cui il componente costruisce il DOM lato client attraverso l'hydrate. In questo caso invece i server component non sono dei componenti innanzitutto non sono dei componenti dinamici, non sono interattivi, non hanno quindi la potenzialità dei classici componenti React ma sono dei componenti che appunto vengono in cui il codice viene eseguito lato server e poi viene tutto mandato già confezionato come HTML al client. Questo cosa vuol dire che i miei componenti come vedete davanti al mio function c'è una sync quindi una cosa che potrei fare prima che venga caricato il mio componente per esempio è fare una wait quindi eseguire una funzione async come per esempio un fetch e non lo so chiamare un API di qualche tipo. Dopodiché viene poi renderizzato il mio componente passandogli questi dati. L'equivalente in next prima della versione 13 è fare questa cosa qua quindi prima server side props qua potevo avere appunto questa chiamata dopodiché facciamo un return le mie props con i miei dati per esempio. Dopodiché mi ritrovavo nelle props del mio componente lato client che mi arrivavano i dati quindi col server server rendering fatto in questo modo ad ogni chiamata veniva prima eseguito questo metodo e dopodiché nel mio componente appunto mi trovavo i dati che gli passavo. Torniamo indietro invece adesso posso farlo direttamente così direttamente posso nel mio componente fare quello che voglio venga eseguito dal server prima che appunto venga passato tutto al client però questo pone un problema questo non è più un componente classico client quindi con la reattività di un componente dinamico senza appunto tutta l'interattività di un componente classico react quindi per esempio io non posso fare una cosa del genere. famoso count degli esempi quindi io non posso per esempio avere uno stato in questo modo se io provo a creare a utilizzare gli state nel mio componente da qua cosa succede che ho un errore un errore di questo tipo mi dici sta importando gli state che funziona solo in un client component. questo perché appunto di default questo è un server component questo viene eseguito lato server use state la gestione degli stati gli hook fanno parte del ciclo di vita dei componenti lato client quindi l'unico modo che ho adesso per utilizzare quindi trasformare il mio componente di un componente client è all'inizio della pagina inserire uno use client. in questo modo funziona di nuovo questo non vuol dire che dovete scegliere se avere o un componente serve o un componente client e basta in realtà next come vedremo in tanti altri video quello che vuole è che tu componga la tua applicazione in modo da avere dove serve magari un componente server in modo per esempio da fare la chiamata verso l'api o la chiamata sul db o quello che serve dopodiché passi quei dati a un componente client e quindi ti strutturi in modo che l'applicazione sia il più snella possibile tutto quello che si può fare lato server renderizzare lato server lo fai di default perché di default sono server component ma poi dopo che vai a leggere i tuoi dati da un'api da quello che serve se hai un componente che ha bisogno di tutta la dinamicità la reattività classica di react in quel caso poi sotto avrai un componente client quindi devi strutturare tutta la tua applicazione poi c'è il layout ci sono gli error boundaries c'è il suspense per fare appunto gestire magari le chiamate asincroni insomma c'è un sacco di roba che vedremo in altri video quello che però è interessante è come siano state rese così ben integrati i server component soprattutto di default questo vuol dire quanto react punti su questo ibrido server client ma ci spingiamo ancora oltre con next 13.4 l'ultimissima versione in cui sono stati aggiunti le server actions vediamo cosa sono andiamo sul form di prima che appunto come vi dicevo aveva un console log e anche in questo caso come possiamo vedere non viene eseguito qua ma viene comunque iscriviti al canale come dice giustamente il terminale viene eseguito lato server quindi questo console log viene eseguito lato server come mai? in questo caso questo è un passo successivo perché non sto eseguendo un server component quindi questa parte viene eseguita lato server e poi tutto il resto viene renderizzato lato server è passato il client ma io dal client perché questo form ce l'avrò sul client utilizzo una funzione che però viene eseguita lato server grazie a questo use server infatti se noi andiamo a vedere cosa succede quando io premo il mio tasto un po' di pulizia se io faccio submit viene fatta effettivamente una chiamata dal client al server quindi in realtà questa è una semplificazione del classico meccanismo di avere un form e fare poi un submit e un post verso il server facendo cosa? scrivendo semplicemente che la action è una funzione ma questa funzione ha uno use server indicato qua quindi è il contrario dello use client che abbiamo visto prima in questo caso serve a next a fargli capire che questa funzione deve essere eseguita lato server capite quindi in questo caso mi arrivano dei dati che io molto velocemente appunto se io adesso mi stampo quel dato lì può essere così io posso fare io posso scrivere qua qualcosa faccio prova come vedete mi arriva qua e viene stampato prova quindi tutto il mio form tutto quello che è al suo interno viene passato direttamente qui lato server qua potrei salvare sul db effettuare un login fare qualunque cosa classica lato server dopodiché vado avanti con la mia applicazione faccio il redirector faccio il ritorno di qualcosa capite quanto questo snellisca molto quello che appunto continua ad essere un normalissimo componente react in realtà inizia avere delle funzionalità molto mischiate appunto ibride come dicono loro tra server e client cosa ne pensate sono curioso di sapere nei commenti cosa ne pensate voi perché per me questa queste sono grandissime novità che è abituato a lavorare su next e con react e da una parte mi sono gasatissimo perché vedete come semplifica tantissimo il codice in qualche modo perché comunque io ho una funzione gli dico eseguile lato server e ho finito non devo dire no fai una chiamata qua fare una funzione che mi esegue una chiamata ma quando invece io posso fare direttamente tutto qua qua direttamente la mia funzione è lato server ovviamente questo da una parte snellisce perché ho tutto qua dall'altra rende tutto un pochettino appunto più complicato almeno adesso l'impatto iniziale ma dove lo sto eseguendo cosa sto eseguendo bisogna diciamo quindi avere abbastanza padronanza poi di queste novità per e quindi servirà a tempo di base bisogna decidere se ci piace l'approccio che sta prendendo next con react di appunto avere tutto insieme server e client tutto a portata di mano quindi meno divisione tra server e client oppure se si preferisce un approccio in cui questi compiti vengono seguiti maggiormente bene ne parleremo ancora sicuramente ci farò del live coding quindi non perdetevi le prossime sessioni di live coding per capire meglio quali sono le novità che riguardano appunto tutto l'ecosistema next react ma parleremo di tanti altri tanti altri libri e tanti altri framework parleremo di astro sicuramente perché voglio almeno provarlo è quick che la grande grande novità del momento è vorrei metterci un po' mano insomma faremo un po' di cose quindi non perdetevi i prossimi appuntamenti ne parleremo ancora grazie come sempre di aver visto il video e ci sentiamo alla prossima